Ma cosa hai fatto sti capelli? Adesso sarei più carina Questo qua fa miracoli Ciao cara, ciao! Bene arrivata, come stai? Tutto bene? Bene, dai, sono contenta Dai, coraggio perché siamo già in ritardo per la festa di stasera No, guarda, per fortuna Per fortuna che ti sei già truccata Perché se ti dovevo anche truccare Ha voglia Eh, insomma Se ti dovevo anche truccare Non so quanto tempo perdevamo Dai, vieni qua, su Fammi vedere sti capelli Vedete qua Mamma mia Ma come ne stanno messe? Ma cosa hai fatto sti capelli? Mia cara Siamo già in ritardo Cosa hai fatto? Guarda qua Che disastro Lascia fare a me va Piuttosto come è andata l'altra sera A ballare E l'altra sera Come è andata? Adesso te li sistemo io Tai tranquilla Ma come è andata? No, io sono andata sabato a ballare Tutto bene, tutto bene Ma con quel tipo là Quello che ti aveva chiesto di andare da lui Ah, non l'hai più sentito Immaginavo Come tutti gli uomini Ma non sembra così In amore vince chi fugge E ricordati Beh dai Cominciamo già a star meglio Si però Allora questi capelli Gli devi dare una sistemata Devi Prenderti dei prodotti giusti Dei prodotti Più all'avanguardia Perché se no No No, ma scusa Non vorrei mica fare ricci eh No, ma hai detto la piastra? Ok No, perché se no ci mettiamo 30 anni Perché hai dato i capelli Beh dai ma Ecco Li abbiamo già un po' sistemati Adesso ci diamo Un'ulteriore passata Anche con il fondo Ecco No, ti dicevo Mi dicevi Guarda che frangetta che hai Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Mi dicevi Ma non t'ha più sentita Ho capito L'hai trovato là di palla Sì Sì Però ti ha detto che è incassinato Tipico Tipico degli uomini impegnati No, aspetta No, aspetta E... Stai ferma perché Te li devo asciugare Te li devo asciugare Che ti ho messo quel tonico là Per disciplinarli Stammi ferma Perché se no Mi devi stare ferma Ok? Dai che siamo già in ritardo L'olio L'olio Li ho già sistemati i capelli Allora... Sì, te li devo asciugare un altro po' Buongiorno ok adesso passiamo con la piastra ok allora mi dicevi vabbè dai il mondo è pieno di uomini lascia stare su non ti dirai perché l'uomo quando vede che gli corri dietro scappa è fatto così purtroppo è fatto così non c'è niente da fare l'uomo scappa quando gli corri dietro quindi tu cosa devi fare devi lasciare stare e poi magari inizi a frequentare anche altri posti si vede che con lì non va più bene te lo dico per esperienza ok allora parto da qua e dopo alla fine ti faccio la frangetta ok si 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 ma certo va bene ti do una passata veloce perché siamo già in ritardo già il coso questo qua che ti ho dato mi costa e quindi l'abbiamo già fatto abbastanza ecco qua una passata veloce tanto poi ti metto anche l'altra cosa e beh e dopo col lavoro come va tutto bene ok ok dai perfetto ai va bene tutto bene tutto bene, tutto bene bene allora che cadeva questa estate per andare al mare perché sai sempre con questa pioggia con questo tempaccio non è che sì tanto felice ecco insomma con questo tempaccio che non si vuole sistemare eh già è così no è fortuna che te li ho sistemati un po' dai almeno adesso sarei più carina ma stasera no come scusa? non ho capito tu vuoi andare ancora là stasera? ma cosa ti ho appena detto? non dobbiamo andare là allora te lo devi dimenticare lo so che è difficile però devi cambiare posti cambia posti cambia gente cambia tutto evidentemente hai perso l'occasione ecco però lo sai come siamo fatti noi donne noi dobbiamo sempre metabolizzare magari non ce l'aspettavamo da questa persona che facesse queste cose che ci chiedesse di uscire qua e là e invece hai capito tu gli hai detto di no poi hai cambiato idea hai cominciato a fargli vedere che ti interessava e lui cosa ha fatto? si è tirato indietro semplice no? quindi adesso devi fare un passo indietro anche tu eh si non lo devi proprio badare ok? quando vai là lo saluti si ma poi non lo badi ok? non lo devi badare facciamo bene questa frangetta guarda 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 fortuna ti ho dato quella soluzione mia perché almeno così sei più a posto ecco qua ecco bene ok perfetto direi che va bene ci diamo una spazzottina ok ok ho i capelli sistemati adesso ti do un siero lisciante disciplinante ok questo qua fa miracoli e poi lucida e li tiene belli morbidi e lucidi guarda guarda come hanno già cambiato aspetto eh sì eh sì eh sì fortuna che c'è lì ai corti va là i capelli perché sennò mi ci voleva un sacco di tempo sì li lisci ancora di più questi oltre alla piastra questi li lisci ancora di più sì hai guardato l'ora vabbè ho finito tesoro ho finito ho finito ma viene via così stasera con quei pantaloni lì a me non piacciono se vuoi di presto i miei e dopo e dopo dici che non ti guarda nessuno ti presto io un bel vestito quello con le bagliette dorate ecco qua direi che sei ok perfetta adesso vai a cambiarti no ascoltami cara ti devi andare a cambiare ok ti vai a cambiare vai alzati e vatti a cambiare sì mettiti quel vestito con le bagliette dorate che stai bene con quello dai fai presto che siamo già in ritardo io ti aspetto qua intanto mi do anche una sistemata ai capelli dai muoviti dai io ti aspetto qua va bene dai ti sei guardata almeno ti sei guardata ti piace il risultato bene dai sono contenta che ti piaccia sì 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 va bene dai cambiati che sei in ritardo va bene dai ti aspetto qua sì va bene ti aspetto qua ok intanto io mi si stiamo un attimino e mi do anch'io un po' di cosa per disciplinarli ecco qua perfetto dai sicuramente con quel vestito starà meglio grazie a tutti Grazie a tutti.